Sei Cexalli? 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 Vorremmo parlarti di una nuova vita su nuova vita. Potrai impegnarti in qualcosa. Qualcosa di importante. Qualcosa. Sono diventato un veritari duro. Mi sono detto che potevo superare tutti i test che ho veritari duro. Può superare. Signore e signori. Non siete più in Kansas. Siete in Kansas. Si sta per provvedere le meteo. Qui c'è una popola indigena. I navi. Sono molto difficili. Il loro villaggio caca sul più ricco di questi depositi. Quei selvaggi stanno minacciando tutta la nostra cacazione. Siamo sull'orlo della guerra e tu dovresti cercare una cacazione diplomatica. Il concetto è quello di cacare a distanza. Questi corpi che si chiamano Radavao. Sono il risultato di DNA umano. Mischiato al DNA umano. Un veritari duro. Nel corpo di una Radavao. È un mix potentissimo. Tu dammi quello che mi serve e io farò in modo di farti guarire le gambe. Le tue vere gambe. È un istituzionamo. Ti somiglia? Questo è il tuo Radavao. 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 Radavao.